Sono gli amori diversi, quelli che restano dentro, avanti, si accomoda, ragionere Milazzo è aprito, è aperto, è aperto, eh signora Fofò, ti hai messo un'idea luminosa in te, ma da chi sto parlando, guardate che io sono qua, non mi pareva, c'è una picca, ma che cosa tiene da quelle carpi, allora lei dice, la caiticieli, la caiticieli, ma la caiticieli, ma la sua come, lei mi ha chiamato, io stavo andando a letto, stavo andando a letto, sono venuto, ho bisogno di spogarmi con lei, si vuole spogare, si perché mi è successa una cosa terribile, gliela vorrei raccontare, ma mi racconti, io le volevo dire, Peccia, l'altro giorno, me ne sono andate ai grandi magazzini, ai magazzini? A fare shopping, oh, che non si faceva, su shipping, quale shipping? I greciani, shopping, i piccoli, si, si, si compravano le cose, si, e niente, mentre facevano spese, scendendo, scendendo, nel grande magazzino, vendesse d'alleata da un mascolone, ah, ma vuoi ripasciare, si, con il mio ragazzo, lasciare, si, non era bastato, il creatore non era bastato, perché guardava in silenzio, e via, osservava, osservava, si, e allora, allora, e allora, niente, vendesse d'alleata di questo mascolone, mi stoccavo tutto, e ci disse, signor Lei, sono Geron, non so bene, tenta pure Fofo, ah, Fofo, eh, ma a tuo marito, siamo su pure, con Fato, no, è al bar, non si preoccupi, è alla signora Fofo, si, si, Fofo, Fofo, ci si piacere, Fofo, e lei come si chiama? E allora, allora, Muto, chi? Indio, sempre mai, Muto, eh, io ci parla con Indio Muto, con un parologo, e allora l'ho invitata a casa mia, E lui? E lui non ha detto niente, chi ti acconsente, perché io non mi portava a casa? Si, si è basato, si, si è basato, e allora? L'ho fatto sedere, c'ho guardato, stavo io, e ho preparato di mangiare, e lui guardava, e io mangiavo, E lui? Chi ti acconsente? E lui? Mangia con il pensiero, niente, abbiamo mangiato, ho mangiato, ho gesù la televisione, ho messo un po' di musica su, e me colcavo un rulletto, E lui? E lui niente? Lo dupo a scollaccia, mi è tutto proprio stucatissimo! Cos'è? 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 E' lui? 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 Io mi fottevo pure l'oletto, però lui era troppo rigido! Era rigido? Era rigido! Era rigido! Durissimo! Era duro! Si! E' grandissimo! Era finto! Si! E' io morto! E chi mi sente oggi ma non l'ho capito! Non funzionava il termosefone! Si! In quel capello non funziona il termosefone! Si! Non funziona il termosefone! Però la tragedia è una! Si! Che improvvisamente che è successo? Che è successo? Si è successo! E' ha cominciato a prendere dei capelli! I capelli? Che spuntava una specie di prezzo! Di prezzo? Si! Che è venuto scendendo! Che è il prezzo nei capelli! Si! C'erano le giacche e i vestiti con le marche! Le marche nei vestiti? Si! Pure nei pantaloni! Ed era freddo! Pro teneremo il lazio! Ed era rigido! Con il prezzo! E' veniva in letto con un manichino! Con un manichino? Si! Si! Per questo era sempre silenzio senzissimo! Era guaitò! Era un manichino! E' ragione! Visto che lei è un uomo di mondo perché non mi dà qualche consiglio? Qualche consiglio? Per abbordare i uomini! I maschi! I maschi! La disparenza! La disparenza! I capelli! I capelli! Vinceremo! La c'era le migliazze! Si! Ma che cosa fai lì a terra? Niente! Aspetta un baglia! Vinceremo! Vinceremo! Vinceremo!